Pur avendo dismesso canotte e pantaloncini, Jack Alanda continua a stupire e a ammagliare tutti come quando era in campo. Sul parquet del Palacarrara, a ribadire la volontà di essere sul campo, è stata svelata la nuova opera, Pistoia Basket Academy, un punto di riferimento per i giovani cestisti. Dal mini basket fino alla DNG nazionale, targata Officine e Fattori Maurizio, passando per Under 13, Nuova Comauto, Under 14, Air Collection, Under 15, Vizi e Servizi e Under 17, Dife. L'inizio di una grandissima collaborazione con altre società pistoiesi come Montale, Endas e ovviamente Bottegone, per essere ad esempio raggiungere traguardi importanti e arrivare a produrre e non solo acquistare giocatori. Questo è quello che ci auguriamo e soprattutto quello per cui stiamo lavorando. Abbiamo iniziato, abbiamo lavorato l'estate per allestire una squadra importante, ma non sono soltanto i risultati, ma soprattutto il lavoro che dobbiamo mettere per raggiungere i risultati, perché ci siamo presi questo impegno, ci siamo presi questo impegno tra Serie A, Bottegone e Pistoia Basket Junior, di creare questa sorta di scuola basket che sarà proprio un'accademia, nel senso che comunque vorrà allinare i migliori talenti, senza dimenticare l'appunto al lavoro di chi sta sotto, di chi ha lavorato per tanti anni per accrescere il valore di questi 15 anni, 16 anni, 13 anni, mini basket eccetera, per portarli a un Under-19, Under-17 che rappresenti veramente un'eccellenza, non solo nel nome ma anche nei fatti. Per quanto riguarda la DNG saranno tanti i giocatori con un doppio impegno, Cuccarese, Iannuale e Della Rosa giocheranno anche con Bottegone, Bianchi, Mastellari, Severini e Moretti graviteranno invece nell'orbita della Giorgio Tesi Group, in panchina un triunvirato, Cristiano Biagini head coach con Roberto Marconato e Fiorello Toppo assistenti. In questo momento il nostro obiettivo è quello di vendere cara la pelle, nel senso che comunque è quello di creare un gruppo forte, deciso, che riporti i valori che poi la Serie A ha insegnato in questi anni, non solo la Serie A ma anche le squadre che comunque hanno ottenuto la Serie A, quindi lo spirito che c'è a Pistoia, la voglia di vendere cara la pelle ma soprattutto di rappresentare una squadra che abbia una forte identità.